Oggi la ruota della sfortuna deciderebbe alle armi bannate che potremmo utilizzare per questa partita di Fortnite Iscriviti anche tu al canale se non vuoi avere 853 trilioni di anni di sfortuna Giro la ruota proprio in questo esatto momento signor refe Oh Pippa pippa Oh Puppa mitico refe Puppa mitico Let's gaga E invece io mi sto beccando No, non è vero, non è vero, lo voglio cambiare assolutamente Oddio, oddio lo scudo raga, lo scudo No, lo scudo no, lo scudo no, dai vecchio ma che cos'è lo scudo, porca miseria Ok, posso dire una cosa, sono molto contento di questa decisione anche perché qualcosa mi dice che Powa vincerà questa sfida No, aspetta, forse è il contrario perché da me ci sono veramente tante persone tra l'altro E anche da me in realtà, ma è problema che lo scudo è difficile da trovare, cioè io dove troverai lo scudo secondo te Ehm, non lo so, gira un po' in giro Non vedo uno scudo su Fortnite da almeno 20 anni Comunque ad ogni modo ragazzi, mi raccomando, codice Powa nei negozi oggetti Se mi volete supportare tantissimo, grazie mille a chiunque lo farà Dio che ci siete, fate diventare bianco quel tasto rosso di iscriviti Ma refe, da me c'è il, c'è Griffin, c'è Peter Griffin Io vado subito a ucciderlo perché lo stanno già uccidendo E io non me ne frega nulla Io spero anzi che tu ci muoia uccidendo Peter Griffin, lo sai? Oddio, oddio, eccolo qua C'è uno, aspetta, aspetta, aspetta Ok, distrutto uno, distrutto uno Eccolo di prima, eccolo di prima raga Questo qua l'ho incontrato nella partita di prima Oddio mio, oddio mio, oddio, oddio raga Ok, refe sono veramente in una brutta situazione Però adesso ci dobbiamo separare E chi vince questa vince un po' di caramelle Cosa ne penso? Chi vince questa sfida? Ma perché delle caramelle? Metti in palio dei succolenti b-bucks Senti, nessun b-buck Oggi raga non ho dati i soldi nell'inventario Nel portafoglio Gigi, Gigi, non ha soldi nell'inventario, hai capito? Lui gioca, non lo vive in un videogame raga Lui vive in un videogame, non ha soldi nell'inventario, Gigi Ok ragazzi, il piterino è qua Ok, il piterino è qua, infatti, tanto fammi Ok, ok, fammi lottare tutto, fammi lottare tutto quanto Allora, io spero non arrivi nessuno Anche perché sennò sarebbe abbastanza un problema Ok, 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 allora Lui c'ha pure tutti i bot, raga, eh Ma ci sono tutti i bot Ok, raga, bisogna fare attenzione Bisogna fare attenzione, ce l'ho proprio sopra lui, eh Oh, no, no, dai, no, non ci credo, raga Ok, 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 ok Medaglione fatto, medaglione preso, medaglione preso Oddio Oddio, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso L'ho ucciso, raga, non ci voglio credere, non ci sto capendo nulla Però è questo il problema Ok, faccio così, perfetto Allora, con calma, con calma, con calma, Powa, con calma, con calma Ok, qua faccio così Raga, devo prendere il pompa, dov'è il pompa? Eccolo qua il pompa Trovato, 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 trovato Sto benissimo, lo sto messo veramente bene C'è uno qua però, mi sembra che ci sia una persona Non vorrei, ecco, impazzire Ok, signori, pompa mitico per me Let's go baby, iscrivetevi tutti adesso al canale Ok, allora, io direi che la mia arma bannata l'ho trovata Possiamo andare avanti così perché Fidatevi che mi sento veramente un pro player in questo momento Ne ho uccisi due Adesso forse mi sta aspettando anche il terzo Non nego che mi potrebbe stare aspettando il terzo Ma nel frattempo, vediamo un attimo, rife con me Ragazzi, andiamo a guardare L'ho ucciso io così, non ci credo Ok, godissimo, godissimo ragazzi Ora, lo scudo Però, honestamente, io come cacchio trovo lo scudo, scusatemi Guarda che non trovo neanche uno shield Ovviamente lui è shieldato Ok, non più ragazzi Ok, via Vediamo questo Mamma mia ragazzi, bella hit quella, eh Mamma mia Come ci curiamo noi ragazzi Non si cura nessuno Ragazzi, mi ho sto pieno di cure Mi ho sto pieno di cure Fatemi droppare anche questo, raga Easy proprio Qua sotto ci stanno altre cure Altri materiali Mamma mia se godo Let's go Un'altra pizza per me Il bro è, tipo, iper scappato Il che, eh Non è troppo funny Quindi cerchiamo un attimo di capire Dove è andato ragazzi Mi serve un assolutamente Ah, devo trovare dove Cacchio si trova, raga Lo scudo, scusatemi Mi serve un attimo Un Fortnite Wiki Ok, GG Ok, GG È giusto ragazzi Ok Ok, ok Oddio Oddio Che cosa vuol dire Che cosa vuol dire Che cosa vuol dire ragazzi Che cosa vuol dire Non è vero Non è possibile No way ragazzi No way Ragazzi No way Non è vero Non è vero Devo rifare un'altra partita Ragazzi Vedete Un cacchio di scudo Ok Che non si trova E devo anche essere morto Da questo qua così Ma che cosa stiamo parlando Signori Secondo me ci sta L'unica cosa è che io adesso Ho il medaglione Ok Ma nessuno mi sta rincorrendo Raga Cioè sembra che nessuno È interessato Ai miei beni Guardate qua cosa c'è ragazzi Avete capito bene C'è il boss E io vado dritto È vero C'ho il pompa mitico Che è tutto quello che dovrei avere Per vincere la partita appunto E soprattutto comunque Un'arma bannata raga Di oggi Però vi direi Sapete che cosa Voglio troppo andare a prendere Questa arma mitica Raga Oddio mi sa che hanno preso Il medaglione No ok C'è un medaglione a rotaie Urgo è rischioso Raga è rischioso Oh mamma ragazzi Guardate quanto Hanno costruito Cioè praticamente Se mi arrivano Cicchierate in questo momento Io non sarei assolutamente Sorpreso eh Perché ce ne sono veramente Tante di persone Allora Sì si stanno uccidendo Si stanno contendendo il posto Per chi avere medaglione In inventario raga L'unica cosa Che devo un attimo capire Se effettivamente Ha senso andare qua Ok no raga Ne ha due Ne ha due di medaglioni Questo qua Ne ha due Non va bene Non va assolutamente bene Ragazzi sto cercando Di capire come si fa A trovare Una cacchio di arma Ragazzi ma Non sto capendo Dove si possa trovare Nessamente Non so dove si possa trovare Niente Niente Allora Questo scudo Penso sia l'arma Più difficile a trovare Può ovviamente L'ha dovuta dare a me Perché sapeva Che avrei fatto Stata tanta difficoltà Comunque io Boh provo a lendarmi qua raga Di solito gli scudi Ci trovano qua O dentro Questi qua No dentro Qua Ci sono queste cose Cioè ci sono gli appostamenti Come cacchio Si chiamano Non lo so Comunque ci sono di solito lì Quindi spero Effettivamente di trovarlo lì Se no ragazzi Mi sa che questa challenge qua Andrà a vincere a Pua E anche a mani basse Perché lui sai Gli è capitata l'arma no Quella che trovi direttamente dal boss Lo sa andare dal boss Al massimo ritrovi un'altra volta Ma poi Hai fatto Io invece no Devo trovare un cacchio di scudo Che è introvabile Che non trovo un NPC Che lo venda Perché Fortnite di G Non mi dice che NPC lo vendono Poi tra l'altro Devo morire come un defician Lì che avessi avuto un pompa Lì sarebbe morto Ragazzi no veramente Sono allibito La mia morte è di prima Poi tra l'altro Sono veramente allibito Non c'ha senso Raga sta scappando in mappa Sta scappando Mannaggia lui No 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 Allora questa cosa Non deve assolutamente accadere Infatti io raga Vado subito a prendermelo Mannaggia lui no Uh eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua raga Eccolo qua Uh ok Vediamo se riesco a Uh ok Non mi sembra troppo forte Ok sì Allora Non è scarso Per carità Ma raga Uh ok 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 Carino 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 Ok 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 Interessante Interessante Lui raga Si vede che è uno che si allena È proprio Uh Le sembianze di uno che si allena Oh Oh mio dio raga Oh mio dio Non so come faccio essere vivo Oh no 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 way no way no way non ci voglio credere Signore Signorefe come sta proseguendo No non me lo dica Allora guardi io sono morto Ok Ho iniziato un'altra partita Non avevo ancora trovato il pompa Eh il cosa Lo scudo Possessi una cosa Sì Tu mi hai messo una challenge Impossibile Perché tu è facile Vai dal boss No e ti prendi il pompa Io e lo scudo Non so dove prenderlo Forno e Gigi non mi dice neanche quali NPC lo vendono Cosa devo fare Ma sai che non lo vende nessuno NPC lo devi trovare tu ed è Oh senti ti è capitata questa arma qua Colpa mia No eh no eh chi ha fatto la ruota Dai eh dimmi Vabbè l'ho fatta io ma non sapevo che potesse uscire Non sapevo che ti capitasse quella cosa lì Poteva capitare a me lo scudo eh No Cioè figurati Zero possibilità Zero possibilità che fosse trattato tutto bene no Tutto senza barare giusto Zero Comunque io ti dico che a me è successa una roba strasfortunata Nel senso che uno mi ha pushato Mentre ho ucciso un altro avevo due di vita Quindi niente sono morto me ne sto facendo un'ultima Mi raccomando abbiamo gli ultimi dieci minuti di partita Ok quindi veloce refe veloce Eh ma posso dirti una cosa tesoro Posso dirti una cosa Posso dirti una cosa Eh Ok va bene tutto quanto Ma io se non trovo l'arma Ok Come faccio a fare qualsiasi cosa Cioè se non trovo l'arma Come faccio a giocare Refe Refe Buona fortuna Eh gg Gg Ok Ok No ragazzi Mi sparano già in volo Non ci voglio credere Una cosa che non mi è mai successa Cioè sì Mi è successa ma ovviamente molto tempo fa Allora Sta di fatto ragazzi Sono in una nuova partita Devo Ok ragazzi Allora Siamo arrivando appunto a capo Nel senso che qua penso di trovare lo scudo Onestamente non c'era Ehm Non lo so raga Sul treno Dove cacchio si può trovare lo scudo Ditevevo nei commenti raga Adesso qua io Non devo lasciare assolutamente neanche una cassa raga Neanche una cassa Perché Immaginatevi se qua dentro ci fosse stato lo scudo Ecco Poi non c'è Ok Però immaginatevi ci fosse stato Attenzione Non è da qua What the Ok 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 È un hacker ragazzi È un hacker È praticamente un hacker Fai praticamente un hacker Adesso che lo aspettiamo È praticamente un hacker ragazzi No vediamo Vediamo perché È stra interessante capire Come è possibile Che una persona lenda E non sbaglia una hit su di me Ok Dai Dai fai un fight bro Fai un fight Ragazzi tanto c'è Chiariamoci L'avrei persa la sfida L'avrei assolutamente persa Questo è palesemente un hacker Perché non può essere ragazzi Che l'enda Inizia a spammare con quell'arma lì E non ha sbagliato un colpo Con quell'arma lì ragazzi Non ha sbagliato un colpo Non ne ha errato uno Non ne ha errato uno Cioè voglio vedere come fight Voglio vedere cosa fa con gli altri fight Vai vediamo Vediamo dai Vai vai Spara Vediamo Poi è arrivato a casissimo No eh ragazzi Cioè così a casissimo Come faceva a sapere che ero lì Non lo so Cioè è arrivato proprio Aggressivo pushando No Ah farà un fight tra poco ragazzi E lo farà un fight Lo farà un fight tra poco eh Allora Ti dico solamente una cosa Mi ha ucciso un hacker Come ti ha ucciso un hacker In che senso ti ha ucciso un hacker Non sto scherzando E apparecemente un hacker Non ha sbagliato un colpo Fran Eh perché magari Utilizza il codice power Nel negozio oggetti Cioè no 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 Però è arrivato Non ha tirato fuori neanche il pompa Solo assalto Ha sparato Non ha sbagliato un colpo d'assalto Eh cosa ti devo dire Ultimi 5 minuti Io sono morto ancora Però ultimi 5 minuti No È impossibile È impossibile No io adesso ti dico Adesso io voglio vedere Se questo qua è il prossimo fight Non sbaglia più un colpo È un hacker Ho vinto automaticamente la sfida Se era un hacker ok No non hai vinto automaticamente Anzi solo io Che dovrei averla vinta automaticamente Se proprio devi Eh si gg Ha arrivato lui No io muoio dall'hacker E lui vince la sfida Perché scusami Eh perché Perché è la legge del più forte Capito Io sono il più forte Quindi è la legge del più forte Zero legge del più forte Questo qua guardalo Guardalo Pua stanno arrivando Ok Cioè sta per fare un fight Adesso scopriamo se effettivamente È un hacker Guarda Mamma mia ragazzi Guarda guarda te E ovviamente qua ragazzi Il cecchino non gli può fare niente Ok guarda Eh vabbè Vabbè dai Ok dai Lui cioè Io veramente Non ho veramente parole Quindi refe Confermi che ti ritiri Del tutto Da questa sfida Sì bro Cioè dopo che mi ha ucciso Questo qua Che è un pippone galattico Ed è entrato così Perché non spamma Come ha fatto con me Perché non spamma Come ha fatto con me E perché ha visto Il dettore in abbino E quindi ha detto Ok spammo 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 No 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 bro Cioè ecco così È entrato a me È entrato così Ma mi ha distrutto Ma è sciolto così a me Vabbè Comunque ad ogni modo Refe Io vi posso proclamare Il vincitore Mi autoproclamo ragazzi Il vincitore Di questa sfida Ma attenzione Perché non è ancora finita Cioè io adesso sono in una nuova partita E se in caso Non dovessi riuscire Facciamo questa cosa Ad arrivare almeno Quarantesimo Con il pompa mitico Per me Sarebbe persa Ok Ci stai? Ok ok Intanto io godo Che il mio hacker Sta per morire Godo Sì sì dai Ti prego uccidietelo Comunque io Mi dissocio Da essere morto Da una persona del genere Perché veramente Cioè in uno di uno Penso che Non durerebbe Un mezzo secondo Ok Vabbè Cosa ne sai Magari Magari È Oh video Fida che rifi davanti No 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 Refe sono morto Refe sono morto Refe mi sa che sono morto Eh mi sa che Cioè ci lascio le penne E tu mi stai vedendo no Vai vai No perché sei morto Ti sto guardando Perché sei morto Cioè non sei morto Cioè fritar lì davanti È un boss No 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 Refe fidati È veramente forte È un boss Non è un nemico Oh video Oh video Oh video Pua sei morto Pua sei morto Non ci credo No 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 Non muoio Ti prego ritirati eh Ti prego se muori Dei bot ritirati Pua Pua non morirà mai Pua non morirà mai raga Non me ne frega Oh video Ok Pua 56 persone Hai poco tempo Per prendere questo pompa Te lo dico Oh veramente poco tempo Sì Dov'è che Dov'è che Dammi un pompa Dammi un qualcosa Oh video Dov'è che sono le persone Sono sotto No 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 Ti giuro Non le vedo Refe Non le vedo Refe Guarda che sto sotto Di sinistra Come fai a non vederla Ok l'ho visto L'ho visto L'ho visto Questo qua Dov'è Peter Mi serve Peter Mi serve Peter Mi serve Peter E qua Peter Ma è full vita Ma è full vita Ma come faccio io Oh Peter è full vita Oh Peter Oh my god Peter Ok Adesso ti spiego come fare Adesso tu sali Non morire dai bot mi raccomando Ok adesso tu salirai D'accordo Ok ok Adesso io salgo Ucciderai sia il nemico Che Peter Ok ok Prima che lo uccide il nemico Prima che lo uccide il nemico Sì 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 Aspetta aspetta Io sono qua eh Eh niente Te lo stai perdendo Te lo stai perdendo bro No 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 Non me lo sto perdendo Tranquillo Refe Guarda fidati Bro te lo stai perdendo Stai attento Stai attento brother Bravo 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 Spera che non ti prenda Spera che non ti prenda No way Occhio power Oddio 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 raga Oddio 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 mio No No Refe Di tre posizioni Non ci credo Ha vinto Ho vinto Ho vinto la challenge Godo 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 Dai Inventare bene Non ha vinto nessuno No non ha vinto nessuno Di due Ci vediamo al prossimo video Codice pomone Leggo su Getti Ciao ciao